Facciamo molto, ma vorremmo fare di più a frenarci la carenza di personale. Questo è l'appello lanciato dal dottor Luca Binda dell'ospedale Morelle di Sondalo. L'unità spinale unipolare di cui è direttore è un'eccellenza, purtroppo, però i medici non sono abbastanza. Al momento sono 14 posti letto riservati ai pazienti, 6, massimo 8 per le lesioni midollari acute, 2 per malati meno gravi e fino a 6 per i malati che hanno bisogno di cure periodiche. Il percorso terapeutico ha un approccio multidisciplinare che può contare sull'apporto di tutti i medici specialisti necessari e va dalla presa in cura fino all'avviamento allo sport, passo a passo attraverso interventi chirurgici e riabilitazione. Abbiamo gli spazi e possiamo contare sulla disponibilità della direzione, riprende Binda. Tutto il personale a ogni livello cerca di dare sempre il massimo, sia dal punto di vista professionale che umano, ma avremo bisogno di altre figure che fatichiamo a trovare. Un problema comune ad altre unità spinali della Lombardia che hanno dovuto ridurre i posti letto per la carenza di medici e infermieri. Per questo motivo, rispetto al periodo pre-covid, abbiamo lisse d'attesa più lunghe. Dal 2020 sono stati banditi quattro concorsi per medici fisiatri, tre sono andati a vuoto e l'ultimo si è chiuso con solo tre iscritti. Le convenzioni con le università per accogliere i medici specializzanti proseguono, ma il turnover è elevato perché i medici cercano sedi più vicine alle grandi città e i tempi non sono sufficienti. Per la gestione del paziente con lesione midollare e spiegabinda servono competenze specifiche che si acquisiscono con l'esperienza e con il tempo a contatto del personale esperto. Insomma, del paradosso della sanitaria risenta anche il Morelli, che cresce dal punto di vista di competenze e ricerca, attività di supporto collaterale, quindi psicologico, logopedico, dietistico e tecnologie, ma si impoverisce delle figure medici e infermieri che soli possono mettere in atto per un numero sempre maggiore di pazienti tutta l'alta qualità che oggi abbiamo a disposizione.